Eccoci qua, ottava giornata Eccoci qua, eccoci qua A metà, perché già tre, no quattro ieri sono andati Quindi siamo circa a metà, un po' meno della metà Come va? Tutto bene dai, non sai sono qui in Sicilia Dopo la pioggia, la festa Ma non lavori mai? Ma lavoro da dove voglio, è diverso Hai due o tre giorni, ci stava Era provocatoria Ma quindi non hai capi? Ho risposto lì Quindi non devi chiedere le ferie? No, per fortuna no Manca i permessi No, per messi Cos'è? Cos'è che era la parola di roll? Una volta si chiamavano roll I roll over? No no Eh vabbè dai Dai Detail che manca un poco Manca poco per Empoli Napoli Quindi così i nostri amici sapranno già Eh sì Io Cioè andrò avanti con quello che sostenevo ieri in live Ovviamente la Lazio ha fatto la pesciata dopo 20 minuti Romagnoli in merda E pensa che questi non segnavano manco se non gli regalavano l'autogol Però non poteva finire 0-0 Perché avevano già fatto troppi scontri in casa con lo 0-0 Quindi Infatti lo 0-5 Ah infatti nel secondo tempo sono andato a prenderla Juve io Eh io invece sono andato sullo 0-5 perché ero entrato sull'uno e mezzo Quindi ho fatto poco più del void perché mi aspettavo un gol abbastanza Cioè prima E devo dire che la Lazio comunque ha tenuto bene eh Perché anche difendere in dieci qualcosina da davanti l'ha fatto La Juve vabbè ha preso un attraverso Ho sbagliato un colpo di testa che era moroso Però insomma con le squadre chiuse fanno ancora difficoltà Sembrano noi Eh Due annetti fa Quando comunque giocavamo tanto ma eravamo lenti Facevamo fatica perché segnavano solo le punte Un minimo di conforto me lo dà questa cosa qua Cioè il fatto che comunque su certe partite loro facciano ancora difficoltà Non è che li vedi dominare come adesso vuoi far credere che è gomotta Però vabbè Quindi niente io ti dico già la mia ovviamente sul Napoli È il 2 È il 2 Ma sia l'half time che Anche l'half time l'aspetto Che Nel secondo tempo Che comunque io Pensando a tutto ciò non pensavo che fosse così alta Adesso sta anche un po' a scendere No infatti A 1.69 No infatti infatti Hanno solo il campionato Ci hanno tutti i titolari Lukaku è rimasto a casa Cioè problemi non ne hanno proprio A 1.69 In exchange Questa è la prima che prenderei anch'io Ti rendi Con quel mio 2 Più 0 a 0 È tantissimo Sì sì A parte che vabbè Veniamo anche da 2 1 a 0 Quindi non vedo proprio la vittoria dell'Empoli Cioè almeno non per 1 a 0 Se succede una roba clamorosa Fanno 1 a 1 2 a 0 Ma 1 a 0 già non ce lo vedo È che con queste quote non puoi neanche bancarlo Perché se l'Empoli a 6 L'1 a 0 sarà a 10.000 Però Cosa è una quote così alta C'è la prima Half time Secondo quota 2.5 Sì Sì anche ci sta L'ho vista ieri sera Perché mi piacerà troppo Cioè Ci sta Ci sta Quindi la prima è questa Semplice Indolore Quota bella Per exchange Copribile Sì Secondo me poi ha valore Vedere anche Vederla anche un po' live Perché anche l'over È abbastanza alto Cioè a parte mi sembra Da una stessa E mentre Oggi è domenica Con un bel piatto di tagliatelle Sì non mi piace In senato quella delle 12.30 Però Cioè questa Ha dello statistico molto bello E quote molto bello Sì sì Beh probabilmente noi non Con le tagliatelle Perché sono in Sicilia Però sì Mi sa oggi Tu mangi la pasta Quella Pasticcio 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 Magari un bel pasticcio Allora alle 15 Ce ne sono due In contemporanea Che Sono bellissime Però Tenendo conto Magari della statistica Lecce Fiorentina Venezia Atalanta L'Atalanta Quota un po' bassa Sì io pensavo Un po' meno Però Un e6 Hai ragione Però Fiesto Venezia Sì sicuramente Qualcosina L'ha fatto più in casa Però il problema È che ha vinto in casa 2-0 col Geno Perché c'è stata la Come si dice C'è stata la pausa Dei nazionali Però anche questo risultato 2-2-1 Che sono usciti Sai che anche il Venezia Non vincerà quindi 2-1 Non lo so Manca un bel pareggio Chiaro E qui ti lancio la bomba Secondo me Eh cosa dici Vai Cosa dici Lo lanciamo la bomba Eh dipende che bomba Vuoi lanciare Noi potremmo dirlo Venezia-Atalanta X Sto guardando Lecce-Fiorentina X Ah Lecce-Fiorentina Volevi dire tu Eh perché viene Dallo 0-0 Con gli Empoli Si ci potrebbe anche stare Sono due squadrasse Però Sì perché C'è uno Sono già usciti Due volte Invece vincere Contro la Fiorentina In caso È bella Perché ha 3-20 È bella Però vedo più un pareggio Eh io Sì considerando Che sono tutti e due Voglio vedere anche Come finisce il Napoli Perché mi stuzzicano molto Il segno goal E l'over 2 e mezzo Quindi voglio vedere Cosa esce Con il Napoli Vediamo se riesco a far segnare Sebastiano Esposito Contro il Napoli Dovesse finire 1-2 1-3 E robe così Allora sarei più tranquillo Non dovesse uscire Il gol nemmeno lì Penso che ci andrei E quindi ci può stare Anche se Però mancano gli under Quindi dovrebbe essere Una giornata tranquilla Questa E allora Manca qualche under Però sai Cagliari Torino Ci può finire Anche Lecce Fiorentina Secondo me Da under Talanta Venezia Non lo so Magari un 1-1 Ci può stare È che il Venezia Secondo me È una delle tre squadre Che È già Predisposta Della retrocessione Insieme al Verona Quindi non C'è a vedere anche Roma Inter Ti ricordo E finisce sempre Con un sacco di gol Sempre sempre Con un pacco di gol Non lo so Quest'anno A sto giro Come finisce No ma infatti C'è da valutarlo Però sai Veniamo da 2-1-0 E da 3-0 Quindi se Se fosse così Anche Empoli Napoli Allora Su quelle due Delle tre Ci penserei un po' di più Quindi Io Farei un bel No bet Sull'Atalanta O Guardare Live Nel caso in cui Magari Non c'è trippa per gatti Andare ovviamente Sugli over Perché il Venezia Non è in campo Però A quella quota No 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 ma infatti Guarda Era proprio Più una stuzzicata Di dire Di giocarsi la Hitz Perché ha 4-20 Sai che c'è la coppa Sai che manca Potrebbe essere Un'idea quella L'unica cosa Che mi giocherei E proverei a guardare Nei secondi tempi Perché mi aspetto In qualche partita Che facciano almeno Due Sì 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 Sono due partite Cioè Giocano in contemporanea Si potrebbe sfruttare Questa cosa Magari 2-0-0 A fine primo tempo Si va a bancare la Hitz Qualcosina la Le tratterei Le tratterei così Sì 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 Poi Alle 18 C'è Cagliari Torino E io qui Lancerai la bomba Un'altra bomba Cagliari 1 Ti giochi? Eh sì Perché qui Hai un po' di defezioni Ho sgamato Lo sapevo io Eh sì Qua ci sta Il brutto Cioè non è una bomba Sì perché No è una bomba Però Lo diciamo da un po' Che il Torino Non sta performando Tanto Era partita bene Poi Comunque È che figa Viene da tre sconfitte Da tutte Con cinque gol Tre gol Cioè questa potrebbe Effettivamente Essere la partita Da under Questa La vedo più Da magari 1-0 Eh 0-0 1-0 1-0 Sì Diciamo che la vedo La vittoria del Cagliari Eh dai Cioè arrivano anche Comunque È un bel pareggio Torino Quindi sono belli Ringalluzziti Sì Avevano vinto il Parma Se ti ricordi Col Parma No no Ci può stare Ma infatti In Keybook Ma i che la danno Come favorita Sì E E Quindi qua ci siamo Beh 1-0-0 1-X Banca 2 Qualche vuoi E poi c'è L'ultima Della domenica Che io non vedo È oscurata Da diretta Non me la fai vedere Beh qui non puoi Non andare Allora La Roma Non sta bene Non puoi Eh lo so Cazzo Però noi siamo Dei complessati Di merda Cioè nel senso Anche il Milan Non stava bene Siamo scesi in campo Per non giocare Io sono convinto Che siamo scesi Proprio Cioè Perché non basta Dire che abbiamo Sprecato quel city Cioè Non avevamo quasi voglia Di vincerlo Quel derby Non avevamo la carica Adrenalica Forse l'abbiamo fatta Tanto per farli passare Adesso Ma No E poi però Torna Barella Cioè giochiamo Con la Lula davanti La Lula davanti Quindi È che Fio Un 83 Non è che mi piaccia Tantissimo Sai Ma a me sì Anche perché Poi è comunque Una partita Secondo me Da over Eh sì Una partita Dove prenderemo Gol Sicuro Anche Perché Quest'anno Lo prendiamo Molto di più Quindi Ecco la vedo Una partita Un po' diversa Tipo Juve Lazio Cioè per me Potevano essere Simili Queste due partite Se non fosse Che la Lazio Ha preso Ha preso Rosso al ventesimo Certo che è un over A un 80 Ma infatti spero Guarda vivamente Che quelle che abbiamo detto prima Se ne siano un paio Che non escono Né con il gol Né con l'over Perché secondo me È da andare a prendere Su queste qua Cioè secondo me Un gol lo prenderemo Non sarà come l'anno scorso Quella Di tassa sotto la pioggia Ma comunque Immaginati Una Roma in vantaggio Comunque Non finisce così Cioè Una 0 Roma Cioè Non è una squadra Che si chiude Non è una squadra Che esce Difendersi L'Inter Certo certo Tu perché hai già pensato In ottica Certo perché hai pensato In ottica Alla copertura Cioè tu vai con l'X2 O l'1-0-0 Del corso Ed eventualmente Pensi Essendo una partita Over che Quello rassegnasse la Roma Sì 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 Non ci sta E poi c'è Verona Monza Verona Monza Cioè io partirei solo Come finisce Come finisce con quelle della giornata Sì appunto Ci vai solo per quello Non sopra cosa dire Perché dovresti andare sul Monza Perché comunque tra le due Sta un po' meglio Però poi dici Il Verona A qualche punto Lo dovrà fare in casa Se lo deve fare E questa è la partita Dove farlo E in più il Monza Non è che stia performando A livelli Ci sarebbe No Nemmeno il pareggino Perché il Monza Ha già fatto due pareggi Eh l'1-1 manca Manca proprio l'1-1 Perché di pareggi L'ha già fatto Con la Fiorentina Con l'Empoli Fuori casa No no Quindi Quindi che cosa mi dici? Ah ma ti dico No Betto Finché Finché non Non fischiano La fine di Roma Inter Ti direi 1-1 Ma solo perché Il Verona Non ha ancora pareggiato E Il Monza Ha pareggiato Ma è l'1-1 Il risultato Che di solito Nei pareggi Esce di più E non l'hanno ancora fatto Hanno fatto 1-0-0 1-2-2 Così Poi dopo il che Vado a statistica Ma Sempre se la devo tradare Perché se va bene Come dico io Oggi Domani Non faccio niente Eh sì Sì Ovviamente Qua bisogna Per il video Bisogna Bisogna finire Il calendario Ma Nessuno Obbliga Di tradarla Per forza Va bene Perché poi Martedì e mercoledì C'è la Champions Ricordiamolo Un'ammazzata di tutti i giorni Riposata anche un po' La mente Esatto Esatto Allora ci accingiamo A vedere un po' Di Napoli Tra poco Sì Ci divertiamo Ci divertiamo un po' Secondo me ci divertiamo un po' In exchange Almeno noi Spero E tra l'altro Spero anche Visto che ho Luca con Merdacacu davanti E anche Esposito Tutte e due Partite di Javlalo Ieri ha preso una traversa Ha fatto caccare Spero almeno che loro due Si diano da fare Se le diano di santa ragione Ottimo Ottimo Va bene Grazie come sempre Grazie a chi È arrivato Grazie a voi E vediamo Anche se questa volta Abbiamo fatto cagare Come sempre Buona domenica Ciao ragazzi Ciao Ciao Dylan Ciao a tutti Ciao 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 Ciao